Sicuramente mi ha convinto l'ambizione della società a puntare sicuramente a vincere. Io sono un centrocampista, una mezz'ala, nato mezz'ala, però negli anni ho imparato a coprire più ruoli in mezzo al campo, come play davanti alla difesa, piuttosto che in un centrocampo a due come tutto l'anno scorso. Sono un centrocampista difensivo, però con buoni notti di corsa e anche buona tecnica. Ho avuto la fortuna di allenarmi per un buon periodo in prima squadra, riuscendo anche a conquistare tre panchine. Comunque sono un buon traguardo e comunque non devo fermarmi e continuare a andare forte.